Buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati. Come vediamo questa è la mappa relativa ad oggi e vediamo il tempo diffuso in tutta la nostra penisola a recensione della Bassa Calabria e della Sicilia. Oggi questa neve al centro Italia che sarebbe a partire dai 1300-1400 metri al sud Italia non si scenderebbe sotto i 1600-1700 metri. Le neve case che sarebbero alternate a pioggia anche sull'Emilia Romagna, soprattutto sull'Emilia Occidentale e sulla Lombardia. Accumuli che comunque non andrebbero oltre i 3-4 cm in pianura. C'è la possibilità di vedere anche qualche nevigata coreografica in città come Milano. Nevicata anche quasi tutto lungo l'alco alpino ad eccezione del Trentino, Alto Addice. Però stasera arriverà anche là la neve, infatti stanotte ci troveremo in una situazione dove le Alpi Occidentali sanno interessate da nevicate, però solo a partire dai 200 metri. Nelle valli più strette e se non la quota neve sarebbe intorno ai 300-400 metri. Per la giornata del 19, dalla mattina comincerebbero le nevicate fino in pianura soprattutto sull'Emilia, miglia occidentale. Nevicate che però durante la mattinata potrebbero interessare anche la pianura veneta localmente. Adesso come vedremo in questa mappa. Non più di 3-4, localmente anche 5 cm si attacca sulla pianura veneta. Intanto quota neve in abbassamento sul centro nord, sul centro, dove le nevicate comincerebbero già dai 500 metri di quota, localmente anche 400. Al sud Italia nevicata a partire dai 700-800 metri di quota. La mattina del 20, che ancora continuerebbero le nevicate sull'Alto Veneto e sull'Emilia. Ed ecco qua che per la sera del 20 potremmo avere qualche nevicata tra il 20 e il 21, soprattutto sulle marche, specialmente sulle marche meridionali, e sull'Abruzzo settentrionale, dove quasi potrebbero accumulare al di sopra dei 250 metri, 300 metri e anche fino a 20 cm durante la mattina.